La maggior parte, quasi tutte le astronaute donna, decidono di bloccarle e questo ovviamente è un problema perché il corpo chiaramente ne risente, perché è una cosa fisiologica, biologica, quindi se le si blocca soprattutto le astronaute che quando vanno sulla stazione spaziale stanno minimo sei mesi normalmente, e sei mesi sono tanti, sei mesi senza mestruazioni sono veramente tanti, quindi il corpo ne risente, però la maggior parte appunto decide di bloccarle proprio perché così evita di avere diciamo un problema in più. Secondo me bisognerebbe lavorare anche da questo punto di vista, sotto questo punto di vista cercare delle soluzioni perché ovviamente si va nello spazio uomini e donne insieme, quindi è già importante il fatto che la NASA abbia finalmente sviluppato delle tute per le attività extraveicolari proprio per le donne.